Eccoci ben tornati su GoGames, siamo su Dragon's Dogma 2 e in questo video andremo a sbloccare tre trofei. Il filantropo, verso l'affinità e oltre e tranquilli ce n'è per tutti. Sono tutti trofei legati alla relazione con gli altri NPC, per cui in questo video vedremo come ottenerli tutti e tre. Andiamo ad interagire con il nostro deposito che sia da una locanda, da casa nostra, poco importa, e andiamo a ritirare un po' di questi oggettini qui. Il cristallo di Dracolinfa, perché questo cristallo ci darà la possibilità di aumentare l'affinità con gli NPC in maniera molto 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 veloce, per cui ce ne andiamo a prendere un pochino e ce li mettiamo nel nostro inventario. Adesso li prendo tutti, ma insomma non sarà necessario utilizzarli tutti. La Dracolinfa ovviamente si prende abbattendo i draghi. Se non sapete dove trovarli, vabbè che li trovate bene o male in tutto il mondo di gioco, magari in un prossimo video vi mostrerò le location dove trovare appunto i draghi e come ucciderli. Dopodiché non ci resta che interagire con gli NPC e visto che dobbiamo aumentare la nostra affinità con un buon numero di NPC, possiamo farlo anche con i mercanti. Quindi andiamo a parlare con lui, selezioniamo dai un regalo e gli andiamo a dare un cristallo di Dracolinfa. E lui è molto contento. Ne possiamo dare solo uno al giorno, quindi dopo dovremo andare a dormire. Per cui ora andiamo a dare il cristallo di Dracolinfa a tutti quelli con cui vogliamo aumentare l'affinità, dopodiché andiamo a dormire e ripetiamo il giorno dopo. Di conseguenza dovremo dare un cristallo di Dracolinfa al numero di persone che ci mancano a raggiungere il nostro obiettivo. Vi mostro cosa dice il trofeo. Questo è il trofeo che si chiama il filantropo e dice hai fatto sì che 50 persone si affezionassero a te aumentando la vostra affinità. Per cui ogni volta andate a controllare se è aumentato il numero di persone e quante persone avete già tra virgolette conquistato, quindi con cui avete aumentato l'affinità, sicuramente già qualcuna ce l'avrete anche voi, e andate a dare un pezzo dell'oggetto che vi ho mostrato alle restanti persone. Ricordatevi però a quale persone lo avete dato, dopodiché venite a controllare quante persone ovviamente vi mancano per ottenere il trofeo, il filantropo, quindi aumentare il rapporto con 50 persone diverse, per cui prestate attenzione così. Se non dovesse bastare il cristallo di Dracolinfa, ovviamente il giorno dopo potremmo dargli un altro cristallo, oppure qualora non ne avessimo abbastanza possiamo dare altri regali tipo il mazzo di fiori oppure il pezzo di onice. Scegliete un po' voi l'importante che gli date un regalo al giorno, dopo magari vi mostro come andare a craftare il mazzo di fiori. Ne riceviamo tanti in regalo durante il corso del gioco, ma andarlo a craftare è veramente semplice. Come poi il cristallo di onice, il pezzo di onice, ora nel dettaglio non ricordo come si chiama, ma è comunque un oggetto che siamo andati a duplicare tante volte utilizzando magari dei metodi non proprio congeniali e non proprio giusti come qualche glitch. Quindi se volete andare a duplicare i pezzi, perché magari vi servono per ottenere questo trofeo, potete farlo anche con i pezzi di onice, che è quel pezzo nero, potete regalare quelli, oppure i mazzi di fiori, qualora non aveste i pezzi di Dracolinfa e se volete potete duplicarli. Trovate i video sul canale, c'è il link della playlist in descrizione. Quindi ora andiamo a concentrarci invece su due o tre persone in particolare. Per cui, giovani, fatevi un giretto per la città e regalate un po' di roba in giro. Io ora lo farò, mi focalizzerò su due o tre persone che girondolano normalmente vicino casa, come questa guardia, quest'altro tizio qui a petto nudo e la guardia laggiù, e cercherò, insomma, di dare due pezzi di Dracolinfa a loro per effettivamente farli affezionare tanto a me e poi dopo creare un pochino di panico che vi mostrerò a breve. E intanto vado a consegnare un po' di cristalli per raggiungere il trofeo, il filantropo. Per cui, mi raccomando, fatelo anche voi. Vi mostro anche come andare a craftare il mazzo di fiori. Quindi andiamo qui, facciamo combina oggetti, Vi faccio vedere le formule direttamente da qui e vi mostro come ottenere il mazzo di fiori. Ecco qui, lo potete ottenere con fior di sole e fior di tramonto, con fior di sole e chiar di luna, con fior di tramonto e chiar di luna. Fior di sole si trova dovunque, chiar di luna si trova soprattutto nelle zone in cui abbiamo fatto le quest di Beren. Proprio vicino alla sua tenda, infatti, c'è un campo pieno pieno di chiar di luna. Ne prendiamo tante altre, anche facendo la quest del bambino rapito dai lupi, per esempio, perché seguendo la scia dei chiar di luna, che sono luminosi di notte, ne andiamo a raccogliere tantissimi, o ne raccolti veramente tanti. In questo modo possiamo andare a craftare il mazzo di fiori, che è un ottimo regalo. In alternativa, potete dare il pezzo di onice. Anche questo è un ottimo regalo e piace tantissimo agli abitanti della città. Quindi, se non avete Dracolinfa o ne avete poca, potete anche utilizzare questi per aumentare l'affinità degli abitanti, ottenere appunto il trofeo, il filantropo, ed andare a ottenere il trofeo che vi mostrerò ora. Per cui, dopo che vi ho mostrato questo, andiamo a dormire, facciamo passare una giornata. E ora andiamo a ripetere il tutto. La giornata è passata e ora ricomincio a dare gli oggetti. Magari aspetto che le tre persone a cui ho loddata qui davanti casa, tornino qui per aumentare l'affinità al 100%, perché per portare l'affinità al 100% basteranno due pezzi di Dracolinfa dati in due singoli giorni. E vado a fare magari lo stesso con i negozianti, così vedo chi effettivamente ha voglia di seguirmi. Quindi, vado a darlo a lei, visto che a lei già l'avevo dato il giorno prima, gliene vado a dare un altro e ci darà un regalo. Tomo, dell'amante della logistica. Vieni, 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 vieni. Ci dovrebbe seguire ora. Lui non me lo ricordo, ma glielo diamo. Tomo del rifornitore. Questo è nuovo, giovi, ne prendiamo un bozzo di roba dentro questo video. Wow, wow. Lo vado a fare anche con loro. Incredibile, signorina, anche per lei. Tenga. E abbiamo ottenuto il filantropo finalmente, quindi questo l'abbiamo fatto. Ora ci dobbiamo concentrare su due, tre persone in particolare. Per cui andiamo a vedere se qui la gente è arrivata in niente, non è arrivato nessuno. Ora, dopo aver dato il regalo più o meno alle stesse persone per due giorni di fila, loro si presenteranno davanti alla nostra porta di casa o comunque ci seguiranno. Lui è di nuovo qui fuori, quindi lui andrà a prendersi un altro regalo da parte mia. Lo salutiamo. Ecco, lui ci dovrebbe seguire ora. E poi vado a recuperare la signora con la cuffietta. La salutiamo. Gli do un altro regalo. Perfetto. E in teoria mi dovrebbero seguire tutti e due. Dai, i cicci, venite. Ora ci seguono. Per cui se il secondo giorno non succede nulla, giovani, fatelo. Il terzo giorno dipende purtroppo. Ora, in teoria ci dovrebbero seguire dentro casa. Tutti e due. Venite. Forza un po'. E qui ora lo chiamo il trofeo e iniziano a menarsi. Eh, guarda. Fermi! Rissa, rissa. E semenano. Così si ottiene questo trofeo. È un po' macchinoso. Per alcuni bastano due giorni, per altri servono tre giorni. Ma comunque, in linea di massima, in due, tre giorni dovreste riuscire ad ottenere il trofeo. Quindi, ricapitolando per chi non avesse capito, per il trofeo il filantropo, dovrete dare almeno un pezzo di dracolinfa, oppure mazzi di fiori, oppure pezzi di ionice. Non so in che quantità, perché io l'ho fatto solo e esclusivamente con il minerale lì di dracolinfa. Cristallo di dracolinfa, scusate, io me scordo sempre i nomi, so terribile. Con il mazzo di fiori non so quanti dobbiamo dargliene. Comunque, per aumentare l'affinità con tutti gli altri NPC, basterà, insomma, coltivarne 50. Quindi, aumentare i rapporti con 50 di loro e magari, per non rendere la cosa troppo dispendiosa, date i mazzi di fiori ogni volta che potete. Così, senza neanche accorgervene, raggiungerete il trofeo, il filantropo, e raggiungerete anche il trofeo verso l'affinità e oltre, che abbiamo già ottenuto, oltretutto con l'elfo, facendo le sue quest. Per cui, quello è particolarmente semplice da ottenere. Per andare ad ottenere, invece, il trofeo, tranquilli, ce n'è per tutti. Con il cristallo di Dracolinfa ci mettete due secondi, quindi ne adocchiate due che sono vicino a casa vostra, che vi ricordate particolarmente, due o tre, vedete un po' voi, due comunque bastano come avete potuto vedere. Gli regalate il cristallo il primo giorno a tutti e due, andate a dormire, ripetete il secondo giorno. Se il secondo giorno non è abbastanza, ripeto per alcuni basta, per altri no, andate a dormire di nuovo e ripetete il terzo giorno. In questo modo loro vi seguiranno, li portate dentro casa vostra e in questo modo otterrete il trofeo.